...la coda con l'altro, poi noi rendiamo, diciamo, funzionati nel senso del colpo, non è così. Il discorso è che, per visto che c'è l'apprezzamento, non è più di così, per tutti i funzionamenti che non è l'apprezzato. Da parte mia, c'è quasi una rivoluzione verso il conflitto finanziario, quindi questo è il senso di... Quando c'è un ritardo, ecco, sull'esperramento legale, poi tra l'altro non è anche venuto in ufficio, perché se tu devi fare un giro in ufficio finanziario, sono venuti a insediare la commissione, quasi 10 volte, perché sono venuti in ufficio di due componenti, che è una mancanza di, diciamo, per l'esistenza di impegni, ecco, di queste professioni che si sono riusciti a farla prima, insieme a seguire, ma arriverà questo momento, e arriverà anche un momento in cui probabilmente, migliorando quella della capacità di incasso, quella della capacità di finanziaria del mezzo, ci lo direi, ma è effettivamente la soddisfazione di ridurre quella della pressione fiscale. Comunque, allora, un dito che vi ricordo, che non vogliamo chiamare, è quello di collaborare maggiormente con i consigli di un anno, i signori, gli assessori, per portare avanti delle iniziative, che può essere il regolamento per abbattere lì, e poi non solo sulla carta, per migliorare quello che è il probabile regolamento, che saremo chiamati a stilare, per far capire ai cittadini che le tasse vanno pagate, ma che non è il nostro obiettivo vessabile.